Oggi teniamo in occasione di Friuli Future Forum un business game sulla sostenibilità, quindi un gioco tramite il quale si impara a capire quali sono le strategie migliori di sostenibilità per portare un'azienda anche a valutare tramite dei business model innovativi di poter sul mercato registrare una migliore competitività. Crediamo molto in questo, abbiamo anche la partecipazione di persone giovani proprio di un istituto tecnico commerciale e li faremo lavorare oggi assieme a degli imprenditori, quindi i giocatori si troveranno su dei tavoli complessi con particolari differenziazioni anche di preparazione l'uno rispetto all'altro e avranno la possibilità quindi di confrontarsi per ogni decisione che prenderanno per un'impresa che sarà data uguale per tutti. È innovazione questo gioco perché la simulazione permette proprio di entrare nella parte di chi con dati alla mano deve decidere quale strategia mettere in piedi proprio per l'azienda ed è anche una cultura innovativa che noi consigliamo al management, soprattutto al management d'impresa. troverebbero molti stimoli per innovare in quelle che sono un po' le classiche metodiche che si sono imparate negli anni in cui tutto funzionava un po' diversamente da come invece sta funzionando ma soprattutto cambierà come funzionamento in futuro.